La giustizia italiana fa acqua da tutte le parti, ancora una volta chi si vuole difendere, chi vuole difendere la propria proprietà, chi vuole difendere i propri figli, i propri cari, il frutto del proprio lavoro viene umiliato da quella che è la magistratura italiana. Abbiamo chiesto in più di un'occasione la certezza della pena, abbiamo chiesto in più di un'occasione il fatto che se un delinquente entra nella mia proprietà privata non ci sia l'eccesso di legittima difesa. Io personalmente ho presentato un progetto di legge in Senato che va in questa direzione. Assurdo il fatto quello che è successo in provincia di Pavia in questi giorni dove una persona che per difendere la propria proprietà ha sparato in aria e viene denunciato perché ha fatto rumore. Non ci siamo, non ci siamo perché nel momento in cui un delinquente entra in casa mia io devo essere libero di potermi difendere.